La prima giornata di campionato, campo basso, Real Monterotondo, la prima giornata girone F di Serie D. Pasqui, subito il pallone per Gianni, la recupera Maldonado, è bello il corridoio, attenzione Di Nardo, attenzione Di Nardo, Di Nardo! Di Nardo, 1-0 per il lupo! Eccolo, traversione sul primo palo, attenzione, pallone pericolosissimo. L'alzato Pasqui, il tocco corto per l'estremo difensore Ripa, va in pressing Ciccio Ripa, ha rischiato tantissimo Simonato. Attaccato da Mengani, la sterzata di Calisto, passaggio bruttissimo, che regala il pallone a Ciccio Ripa, ancora, ancora Di Nardo, la spara addosso a Simonato, poi la ribattuta di Corbino! Non si capisce più nulla, ma si salva il Monterotondo. Occasione facsimile per Di Nardo, adesso il contropiede del Monterotondo, ma si è già riallineata, la retroguardia rosso-blu, poi in mezzo a due. Attenzione, liberissimo sull'esterno, esposito, che brivido! Attenzione, Lombari, Lombari, Lombari supera il portiere, Lombari, ultimo tocco però, non ha potuto indirizzarlo. La palla è buona per i Laziali, con Riosa, Riosa, la conclusione di Riosa! Sta per cominciare l'ultimo giro di orologio, meno per quanto riguarda i tempi regolamentari. Ricamato davanti alla porta, attenzione, Ricamato! Non riesce la sterzata. Corbino, sul primo palo, attenzione, in area di rigore non si capisce nulla, il tiro e c'è il gol! Palla! E c'è la rete! Il 2-0! Manuel Gonzales fa 2-0! Gera da Napoleoni, poi Scaffidi, prova ad andare da solo Scaffidi, la mette dentro Bonacchi, palla che resta lì! Esposito! Attenzione, brutta palla, che taglia in due la difesa del campo basso, finisce giù poi... Amore, calcio di rigore. Per il Monte Rotondo, pet dei laziali. La rincorsa di Amore, lenta, la conclusione e l'algolla. Accorcia le distanze, il Monte Rotondo. Attenzione a Corbino, attenzione a Corbino, Corbino va da solo! Corbino, il tocco di Corbino! Vincenzo Corbino, 3-1! E ruba anche il pallone, Lombari, prova direttamente la conclusione dalla distanza, Lombari! Che cosa stava per fare Lombari? E finisce qui dunque, il match vince il campo basso. Per 3-1 contro il Monte Rotondo, i primi tre punti del rosso-bludi. Mister Andrea Mosconi-Lereti, Di Vincenzo Corbino, Antonio Di Nardo, Emanuel Gonzalez per il Monte Rotondo. In gol, Jordan più amore su un rigore al sedicesimo del secondo tempo. Applausi